Ciao, con questa serie di video voglio condividere con te questa mia piccola preparazione a un mini tour che praticamente si è venuto formando stranamente, così strada facendo, nel senso che io ad agosto dovevo fare due concerti con vecchioni e poi li provvisto sono diventati tre, poi quattro, poi cinque e quindi è diventato un mini tour di dieci giorni, allora ho pensato di farti vedere come mi sono organizzato per tenermi aggiornato e allenato per affrontare quindi questo mini tour siccome mi trovo in vacanza nel paese di mia madre, dove in realtà io sono cresciuto, che è Tolentino provincia di Macerata, voglio farti vedere come ho pensato di organizzarmi perché la prima data sarà il 14 di agosto a Troina in provincia di Enna, per cui è una data che è proprio in mezzo alle vacanze e io non ho presso lo strumento però mi sono organizzato nel modo in cui ti farò vedere adesso ti faccio vedere uno scorcio di questo posto, ecco questa casa di mia madre ecco così, ecco questa è una casa disabitata perché purtroppo il terremoto ha danneggiato la casa ora entriamo e ti faccio vedere come mi sono organizzato, ovviamente per seguire bene tutta questa serie di video perché a mano che il tour va avanti ne farò altri ti consiglio di venire a vedere nell'area riservata, nella membership area di The Drum Booster ok, è un'area gratuita dove strada facendo pubblicherò i video, le foto, tutti i contenuti che farò durante questo mini tour e è mia intenzione anche un po' farti vedere come suono certi pezzi perché questa è una situazione molto particolare, non è la regola non è il classico tour dove un batterista viene ingaggiato e fa le prove, l'allestimento e poi il tour io praticamente non ho fatto mai le prove praticamente faccio solo queste date perché non sono il batterista titolare per cui non sono libero di fare esattamente tutto ciò che farei se fossi io il titolare poi questo te lo spiegherò nei prossimi video ci vediamo all'interno della membership area di The Drum Booster clicca qui sotto e iscriviti, è gratis e ogni volta che posterò qualcosa di nuovo ti arriverà una mail di notifica così sarai aggiornato ci vediamo, ciao! ciao!